Spero per il tuo bene che ci sia ancora tutto quello che ho perso eh, sti zombie qua Per il mio bene che non è che sono stato li a non mettere dove Sì non è che sono stato li a guardare ogni minima stanza Aspetta che abbassa un po' il volume perché è un po' tanto fastidioso Ok Ah ok meno male c'è ancora tutto Oh salvezza Via 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 Ok cos'è sto casino Cos'è sto casino Oh torce 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 che qua continuano a spawnare Via via Oh dai che se tutto va bene ho tutto Aspetta Elmo Chest plate Pantaloni Ah ho perso i piedi Vabbè Fa niente sopravvivo anche senza piedi Allora Vabbè Le spade almeno sto volendo Sì sì le spade le ho Fortunatamente le ho Distrutte ma le ho Ok Aspetta che riorganizzo un attimo Perché ho un link Ah gli zombie truppano i lingotti di ferro Boh ma tanto non serve Ah le mele ho perso Ho perso le mie mele d'oro Non è che le hai te per caso No Oh beh senza me le do Vabbè tanto le troveremo nel cammino Sì sì infatti infatti Sì ma continuano a spawnare gli zombie Aiuto Un paio di torci in più Magari Non fanno mai male Sì Sicuramente proprio Bene Sì ma vado a fare una cosa Lascia qui tutta la tua roba No e se ci riesci poi Poi boh non lo so Vado per me io se ci riesco poi vai te Eh metti tutto quanti una cesta Tutto qua in questa cesta qua Tranne vabbè mi tengo una spada rotta Tanto anche se muoio con questa Non è un problema Se caso tu prendimele e portamele se Se servono Anzi no facciamo una roba più saggia Vado direttamente là con Così E comunque non si può passare se andiamo qua sopra Come non si può passare Ah no si può passare Facciamo divisione Così anche se muoio ho comunque ancora qualcosa Sì ma Il fatto che con questo lag se non muoio Muoio ok Ok Salvo Spero di non doverlo mai più rifare Salvo Via Vola via Vola via Sì Sì Come ho una torta comunque ma tanto ne troverò altre nel cammino di sicuro Mi devi proteggere di più però perché non ho molta roba con me Sono caduto sono caduto No 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 non adesso non adesso non adesso non Bit bit aiuto Ah muoio muoio ok Eh yeah Eh perché sono caduto capito No che noia Eh bello il Il checkpoint salvato non ha neanche funzionato Quindi scusate mi devo teletrasportare da te Aspetta un attimo Aspetta un attimo Sì Aspetta un attimo Sono su Sono sul dirigibile della pertenza Sei in un posto sicuro Aspetta un attimo Sicuro Vabbè Vai vai prova adesso Ok Cioè non è molto sicuro Ah è Non è molto sicuro ma Va benissimo così dai Dai Ok Scusate per il Eh ma no ma mi scade la spada Proprio mentre lo devo usare Aiutami eh Muoviti 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 quanti c'è nessuno di mosse No ma questa mappa qua è 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 Torce bit Torce ovunque Torce Io non ho L'armatura Quindi Velocemente No Questo Vado presa io per sbaglio Vieni qua Ah va bene Ho anche delle torce No delle C'è necessità Qua giù Dai che tanto le riprendiamo le robe pian piano Aspetta eh Mettiamoci qua Controlliamo questa stanza Metti torce Metti torce Entra e metti torce Ce l'hanno con me tanto Eh sì no Non aiutarmi dopo È tranquillo Eh frecce tutte per te Ti aggiungo anche queste E anche queste Aiuto 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 Non ho vita E non ho Hai del cibo che non sia Che non sia Torce No beh Hai del cibo in generale Se sì me lo puoi dare Per favore Thank you Ah una chest plate Eccola qua Va bene Oh ok Grazie Boom Salvi A parte il fatto che mi sta scadendo la spada Proseguiamo Prima poi ne troverò una nuova Tipo No Bene Senza spada Non ho idea di cosa fare Ma Vabbè se ce n'è una di ferro Da qualche parte Ma non so dove Da dove Da che parte andiamo Beh Beh per forza di qua Ci tocca buttarci giù Bit Volà Ma qua non possiamo andare scusa Ah Vabbè qua no Dove andiamo Cosa è sta roba Buttati giù Come ho fatto io Ciao c'è un'ascia per te Il pane però lo prendo io I'm gonna boom away E Paraparabam Ok Crepa Ah siamo A giudicare della nebbia che c'è Siamo Abbastanza in basso No mi è scaduta la spada Aiuto 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 Oh vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ok Torci Vai Spada di ferro Massima stima Massima stima La devo usare con molta cautela questa qua Boom Aspetta Dai Go C'è un sacco di nebbia qua tra l'altro No Grazie mille Iron boom Oh Sollievo anche per questo Mi prendo anche questi Tanto per Avere qualcosa E le torce le sto finendo Oh Come sentirsi meglio Ah Spaventa Ah un posto Un posto particolare Qua Tipo non si vede nulla Se si sta in basso Fattene Chissà cos'ha Cosa bisogna fare Non so Odio la lava E la nebbia È dovuta Al fatto che siamo Molto in basso Ah ma I saw what you did there Ecco qua Odio questi Cosi qua Per qualche recondito motivo Sono riuscito ad arrivare in alto Ma Non è Quello che dovevo fare Ah no Ecco qua Questa qua è ragilla Si può spaccare Molto bene Ok non c'è niente È impossibile scusa Però Servirà qua Ah Guarda qua Bit Guarda qua Ci ha fatto vedere Meno male Vabbè Dave Non fa niente C'è È colpa del tuo server Non è colpa tua Non ho perso niente Comunque Non so te No Non abbiamo perso poco niente Comunque Abbiamo ricominciato E ha lasciato pure Il suo registratore Da Il mio bellissimo server Con il mio bellissimo computer Oh Non mi attaccano Non mi attaccano Bit 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 Non attaccarne neanche uno Ok Cosa Meno male che siamo morti Guarda meno male Se no non ce l'avremmo mai fatta In pratica Mi è cresciuto il server E quando siamo tornati Nella stanza là Siamo arrivati Un pelo più avanti Di dove eravamo prima Ma Ma hai ragione Perché Pure Nell'inferno Se ti ricordi Se li attaccavi Se non li attaccai Non ci riusciamo Si ma muore sto cosa qua O fa finta Aiuto Ok No Ok un cavolo No Si è vero Il trucco stava nel non provocarli Dovevamo capirlo prima Comunque fa niente Dai Una morte Non è Chissà cosa Ok Metti l'orange wool Sul blocco di legno Anzi aspetta Actually Prima vado a prenderla L'orange wool There we are Ok Ok Si ne ho una in più adesso Se caso Questo me lo ricordavo Perché è uno dei pochi Spezzoni che ho visto Boom Vediamo dove arriviamo Sta nebbia Oh io non ne posso più Vediamo Cosa c'è qua Torte Torte Mia 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 Cosa è questo No Diamant Oh il diamante Benissimo E uno dei tre E' preso ragazzi Sono Finalmente Ce l'abbiamo fatta A prenderne uno Ecco Bene Dobbiamo solo trovare Una via di fuga adesso Immagino sei di qua Calma Ok Scale E' sempre un buon segno Scagliamole va Chissà quanto eravamo profondi Eravamo quasi alla bed Grazie Alla bedrock Immagino No io ho visto Eravamo sotto Vabbè Eravamo Tipo a degli air tree Ah Ok Comunque Boom Si Almeno questo Questo Pezzo che è stato di sicuro Il più difficile L'abbiamo fatto Dai Adesso Ci aspetta la Mitica Le insidie Della dark wood forest Ma Ma lo faremo poi La prossima volta Che dici Troviamo un posto Dove depositare il diamante Ho un'idea Aspetta Prima che muoia Segui un attimo Depositiamo qua il diamante I diamanti che abbiamo trovato Così almeno Non ce lo portiamo presto Ok E con questa visuale Di uno zombie Che si accinge Ad attaccarci Vi salutiamo E Al prossimi episodi Ciao a tutti Ciao 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 a tutti